Musica Parlare di Pierpaolo Mura è come parlare di una persona che voleva conquistare il mondo, di cambiare le cose di questa società, ma purtroppo ha fatto i conti con una società a marcia e crudele. Oggi se parli di Pierpaolo Mura nel mondo della box, o perlomeno chi l'ha conosciuto, ti possono dire che ero un pugile, direttante e un dischietto professionista. Ha vinto qualcosa come quattro titoli italiani, qualcosa che oggi non gli sta permettendo di vivere una vita adagiata e tranquilla per lui e la sua famiglia. Adesso interrompo Pierpaolo, che tutti riconoscerete, non ha certo bisogno di presentazioni oltre a quella che stiamo dando, in questa lettera, che un pochino cerca di districcarsi in questo lessico, accettiamo anche la definizione di curioso, ma siccome è importante arrivare alla sostanza delle cose, Pierpaolo Mura, campione, plurimedagliato, come possiamo vedere in ogni stanza della sua casa, come vediamo di fronte, i campionati italiani, i novizi, i direttanti, il 94, l'89, una storia di un 45enne, Nani Moretti direbbe uno splendido 40enne, perché ovviamente chi fa sport si tiene bene, che a un certo punto della sua carriera di vita, non quella pugilistica, della nobile arte, si trova a non trainare più questo carretto della vita, ecco, come capita a chiunque. Cosa abbiamo noi, nella fattispecie e tu, da rimproverarci? Le scelte sbagliate che si sono fatte, poi alla fine mi serviva semplicemente come il pinucchio della favola, il grillo parlante, no? Che ti avrebbe consigliato. Io ce l'avevo un grande maestro, però lui aveva delle ambizioni molto sportive, infatti poi io sono passato professionista a 27 anni, a età già adulta, per cui sarei dovuto passare appena a 23 anni, quando mi ricordo, appena avevi inserito l'italiano dei direttanti, venne Cherchi all'aeroporto a farmi una proposta di contratto e lì era veramente l'occasione più grande, per cui sono quelle piccole scelte che poi te le porti dietro, tutto lì. Ecco, in ogni caso bisogna stabilire una cosa, questi personaggi che nello sport hanno dato tutto, ovviamente, voi sapete benissimo, uno non può continuare a combattere sino a 60 anni, è un pochino come la vita delle mannequin, delle modelle, ma il pugilato oggi, che ha perso moltissimo terreno dagli anni in cui si vedeva combattere Marvin Hagler, Cassius Clay, che facevano il glamour, della, insomma, Cassius Clay era la Ferrari del pugilato, oggi che il pugilato è crollato tanto, purtroppo l'aspetto commerciale di questo non esiste più e voi purtroppo vi vedete costretti a sbarcare il lunario. Ma, momentaneamente io ho una bancarella di frutta, niente, io questa bancarella, lo devo dire, interpretativamente, la sto vivendo ogni giorno, vivo per la bancarella, è abusivo, purtroppo io, dopo 26 anni di pugilato, e aver vinto quattro medaglie d'oro, una d'argento ex nazionale, sì, a qualcuno potrei essere anche molto ripetitivo, potrei anche rompere i suoi sacricimili, però purtroppo è la realtà, noi, ma non solo io, anche altri, anche altri titolati, plurimedagliati, ci troviamo, dopo tanti anni dedicati a aver dato prestigio all'isola, senza un lavoro, anzi, io l'unico lavoro che avevo, mi aveva proposto mio cognato, cioè tutto lì, l'unica persona che veramente ha un elogio, tra virgolette, era mio cognato, che mi aveva dato la possibilità di lavorare, però è una cosa vergognosa che dopo non c'è un ente, non c'è un comitato che ci dà la possibilità di avere un piccolo posto di lavoro, e questo me ne dispiace. Un computer, un piccolo ambiente, veramente clostrofobico, dove appunto in questa parete c'è tutta la rassegna stampa di quegli anni, l'immancabile Milù, il cagnetto che sta così a curiosare, ecco, di compagnia, tu lavori qui, non lasci mai la tua postazione, lo sport nell'anima, soprattutto la box, ma anche il calcio. Questo è il piccolo museo di Pierpaolo, questo è, sinceramente c'è stato un periodo dove avevo tolto tutto, perché mi hanno fatto veramente venire l'annausa del pugilato, perché... C'è stato il rigetto? Sì, c'è stato il rigetto per coppa del sistema, un po' devo ringraziare a mio figlio, che l'anno scorso mi ha fatto ravvicinare, però ho visto veramente la realtà di quello che è, e me ne dispiace dirlo, cioè, se posso usare un eufemismo, si può dire che io nel 2006 mi hanno fatto ritirare, perché dicevano che a 36 anni ero troppo grande, no? Cioè, se all'epoca avevo lasciato tanta roba a marcia, io sono tornato l'anno scorso, ho tesserato a mio figlio per fargli fare i campionati, e ho ritrovato quella roba più in marcia di prima, per cui io mi sono rallontanato, sono contento che mio figlio non abbia la pazzia che ho avuto io, ho l'amore, perché io ero veramente innamorato, ho riscoperto un altro amore, che si chiama Wing Chun, che è dello stile di arti marziali, che mi auguro di potermi aprire una palestra, perché è una cosa che vorrei menzionarti, è il discorso di avere un attestato come insegnante di pugilato, oggi per avere un attestato come aspirante devi farti un corso di 400 euro, ok, ci sta, perché oggi... Ma nonostante tu sia pluriqualificato... Assolutamente sì, purtroppo le leggi sono cambiate, soldi non ce ne sono più, oltre che ti fanno pagare il corso, poi questo attestato decade qualora tu non ti tessi nell'arco dell'anno con una società, mi è vergognoso, signore io ho fatto, io sono un arbitro di calcio amatoriale dal 2007, oggi quando mi dicono vieni a vedere un combattimento di boxe, non ne voglio sentire niente, perché mi hanno fatto veramente vedere questo sport, però ripeto, mi hanno fatto veramente allontanare, e mi hanno fatto innamore delle arti marzali, che è una cosa spettacolare, tutto lì. Ecco, ti sei, mi sembra di capire che in questo periodo della tua vita non ti sei mai sentito così groggi, per intenderci un termine pugilistico, cioè i colpi che non hai preso sul ring li hai presi un pochino nella vita. Sì, sì, io la verità del pugilato sono rimasto scoto, perché poi alla fine, lo sai, vuoi fare il corso, fare il corso, sei disoccupato, trovi la possibilità di poter avere il finanziamento per questo corso qua, poi, cioè ripeto, io non vorrei che poi mi avessero detto una bugia di questa storia che decade il corso, no, sinceramente, però mi hanno detto che se tu non ti tesseri nella società, alla federazione, decade, cioè devo ripagare altre 400 euro per fare il corso, che poi il corso di aspirante è prima, perché poi c'è un altro, se vuoi diventare aspirante di seconda, è tutto un mangia-mangia generale. Un'escalation infine. Si è passato, Antonio, dal farlo gratis, il corso come insegnante, a fare pagare una cifra. Oggi chi vuole si fa il corso, infatti abbiamo nuovi istruttori aspiranti che di pugilato, è vero anche che, come mi dice il mio maestro, non è detto che uno per essere un grande maestro deve essere un grande pugile. Se capita un po' di giungla anche per me, e loro ascoltano, chissà se ridono e se capiscono il perché. E questo mi sta buttando giù, per fortuna che poi alla fine ho amici come il nostro consigliere regionale Dordotocco che mi sta vicino e nel suo piccolo mi sta aiutando, nel suo piccolo. Parlo di una favola che parla di me, parlo di una favola che parla di me, canto di una donna che ha conquistato il mio cuore, dopo tanti anni su me. Bene, io con questa canzone era una canzone dedicata a mia moglie, fatta per dargli tanti elogi a mia moglie. Oltre che fare il pugile mi ci meglio a fare il cantante perché ogni tanto ci passiamo le ore a dimenticare un po' la malinconia perché questo fa sì che non va in depressione, perché poi alla fine correre, fare l'albitro, alzarsi la mattina e vendere frutta. La chitarra è un'ottima compagnia, per cui ogni tanto mia moglie mi dice ma che sta a fare la canzone? Io mi metto lì a fare le canzoni per come Babbo ci ha lasciato. Ecco poi alla fine la famiglia ovviamente è il rifugio. Ringrazio a mia moglie che ha una forza incredibile perché io ripeto per metà dei miei anni fino al 96 e ho trascurato per il pugilato. Io ho un ragazzo di 19 anni, che ne è lui? Victor, no? Lui non vorrebbe a dirlo, però per me era un talento, capito? Perché come ti ho detto prima... Perché era? No, perché lui a un certo punto ha deciso che il pugilato lo poteva fare solamente a livelli amatoriali. Perché sono contento... Non si vedeva professionista. No, no, sono contento che lui abbia avuto quella frase che mi disse Luciano Fudi che non sempre i migliori vanno avanti, capito? Cioè se io oggi dovessi tornare indietro, io le scelte che ho fatte allora non le avrei mai fatte. Se mi avessero detto nel lontano 81, se mi avessero detto tu nel 2004, finirei disoccupato perché il comune, la regione, la Sardegna non ti darà un posto di lavoro. Io ti giuro, non l'avrei mai fatto, capito? O perlomeno, premetto che io nel 96 mi sono licenziato dal posto di lavoro perché c'erano le Olimpiadi di mezzo. Io aspiravo a fare le Olimpiadi. Tante promesse dai sindaci di allora che non mi avrebbero mai dimenticato, capito? Non devo, faccio un appello anche al sindaco, non devo arrivare a fare stupidaggini per avere un posto di lavoro, capito? E ringrazio la persona che mi sta aiutando e mi sta molto vicino, ma anche a livelli morali, perché poi alla fine conta la telefonata, capito? Il chilo di riso che ti manda a casa, capito? Io oggi con la bancaria, la sono un anno che sto vendendo frutta, grazie a mia madre. Perché io, lo dico ad alta voce, non ho niente da nascondere. Grazie a questa santa donna, che mi ha dato la possibilità di aprirla a bancaria. È grazie alla mia volontà che ci sto mettendo. Perché io ho sempre detto una cosa, in un posto di lavoro fisso, no? E quando andavo dai titolari, io l'anno scorso ho avuto dei colloqui di lavoro. E ho sempre detto questo, io non vivo per lavorare, lavoro per vivere. Ok? Io oggi vivo per lavorare. Oggi rimango tutto il giorno in bancarella. Perché quella è un'attività mia. Ma se io lavoro come dipendente, perché oggi la società, dico che va in marcia, perché ci sfruttano, il lavoro non c'è, ne ci obbligano a fare dieci ore, dodici ore, per una misera... Io non ci sto, non mi sta bene. Tutto lì. Mi stanno portando a 45 anni, a tornare a combattere. Le proposte ci sono già state, in Spagna. Un amico mio, Lagana Giuseppe, mi ha già detto, vieni in Spagna. Ma perché io a 40 anni? Io il mio dovere l'ho già fatto. Avrei gradito, tra virgolette, che mio figlio, ma per fortuna, si è reso conto che mi ha detto, babbo, ma io devo finire, con i miei atti disoccupati, non esiste. Ecco, quindi, poca riconoscenza nei confronti di persone che hanno dato molto nello sport. Sembrano quasi delle pretese, un pochino così, con i tempi che stiamo correndo. Una persona mi potrebbe dire, ma lo sport l'hai fatto tu, per carità. Ognuno della propria vita ne va quello che ne vuole. Chi si droga, chi si fuma, chi si ubriaca. Io ho scelto di fare il pugilato. Però, ripeto, noi, pugili titolati, qualcosa lo dovevamo pure avere. Non dico un posto. Cioè, io faccio l'esempio, tra virgolette, del mio Gressimo Toreffani. Lui l'ultimo mece l'ha fatto a 40 anni. Perché a 40 anni a lui non gli avevano dato. E non mi paragono assolutamente a Toreffani. Per carità, Tore era un grande. Perché non mi vorrei mai paragonare. Cioè, lui ha fatto l'ultimo mece a 40 anni per dimostrare alle istituzioni, al comune, alla regione, che lui gli dovevano dare un posto di lavoro. Toreffani, campione d'Europa, sfidante mondiale. Capito? Tutto lì. Cioè, io non mi paragono. Però io ho vinto quattro titoli d'Italia. Non sto chiedendo il mondo. Oggi, carissimo, funziona tutto a rami politici. Oggi, se tu conosci un politico forte, ti danno un posto di lavoro. E non deve funzionare così. Assolutamente. E' una cosa vergognosa. Perché io, ripeto, l'unica persona che, tra i peggiori, i migliori, mio cognato mi ha dato il posto di lavoro perché lui mi voleva bene. Mi voleva bene. Capito? Gli altri, le bisogna le chine, le dine, le dine, le smazzate, non dire. E me ne dispiace di questo. Io so fare il barista, sono un fortissimo banconero di caffetteria. Ho lavorato quattro anni come preparatore in merce alla Grossa 87, persone cooperative. So lavare i bagni, so lavare i cesti, so lavare, so stirare. Non rinciverdi. Non mi perda niente. Posso insegnare difesa personale. Perché poi, io, ripeto, grazie a mia moglie, ai miei figli che mi danno la... Non sono arrivato all'esaurimento. Tutto lì. Allora, io la metto in questi termini, cari signori, diciamo così, delle istituzioni, e qui mi permetto di farmi... Allora, non sono delle pretese di una persona che a un certo punto ha preso... Però lui ha detto una cosa importantissima. Oggi, se lui avesse deciso di mettere questa energia che ha avuto nello sport per dare lustro alla nostra terra, lo dico proprio veramente senza equivoci di finta ironia, ecco, avesse scelto la strada, che ne so, della droga, del furtarello di questa e dell'altro, ecco, queste categorie di persone, senza nulla a togliere nessuno, senza offendere nessuno, sono più tutelate. Di tanto, di tanto si fanno tre, quattro mesi di lavoro al comune. Invece, un eroe dello sport, dell'arte più nobile che ci sia nello sport, come il nostro Mura, al quale stringo la mano in segno di veramente, di ringraziamento, come se la stringessi a Gigi Riva, ecco, si trovano spesso in condizioni del genere. Quindi, dare due pesi e due misure, purtroppo, funziona così, anche oggi. Siamo disponibili, mettiamoci sul mercato. Barista, banconiere, operaio a 360... La principale è il banconiere di caffetteria, che è... Non è chiuso, si cerca in su traballa a San Regione. Ma tu l'interessa la traballa? Quando mi sei fatta qualche proposta di lavoro, gradirei delle proposte serie, non che ci vogliono mangiare, vogliono sfruttare, perché non esiste, perché me ne rimango in bancarella a fare il lavoro che è umile, però che non c'è gente che mi sfrutta. Tutto lì, non è il discorso. Vorrei permettere anche una cosa, che questa casa qui l'ho avuta dopo cinque anni, che ho vissuto in via Tepoli, in casa albergo, e quando sono andato nel 2007 a chiedere all'assessore, io sono campione italiano, voglio una casa. Giustamente l'assessore mi disse, che gli disse, io ho vinto cinque titoli italiani, mi disse, signor Mura, lo sa cosa se ne deve fare di sui titoli. Ho fatto la trafila come tutti, ho fatto la trafila e grazie a questa trafila, una gradatoria mi hanno dato la casa. Ok, però non vorrei finire, caro sindaco, se mi ascolta, non vorrei finire come qualche altro ex pugile a livello del baratro, perché se arriva a quello vuol dire che per Polo Mura ha finito di ragionare col cervello. E mi auguro che mia moglie e i miei figli mi stiano vicini, perché, ripeto, fin quando c'è qualche lira che ti entra dalla frutta, perché, ripeto, io sono abusivo, vorrei specificarlo. Ok, mi sto dando da fare, non sto andando a rubare, non c'è una denuncia, per cui è naturale che da abusi prima o poi mi manderanno via. Per cui io non devo arrivare a gesti insani e essere ricordato come il pazzo ex pugile. Io voglio essere ricordato, quando parleranno di Piero Polo Mura, come l'ex campione dei dilettanti, che ha vinto cinque titoli. A proposito di questo ti tolgo dall'impass e chiudiamo. A proposito di pazia, lui non è il casco pugile suonato, ma suona. Ecco qui. Suoniamo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti